Musica 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 Cari amici ben ritrovati, buon anno di nuovo a tutti parte la stagione 2024 di Eventi del Territorio Ripartiamo da Miale, esattamente alla sara di Sant'Antonio in Bergomanna e abbiamo qui il piacere di ritrovare Giulia Bertolini, presidente di questa bellissima associazione Giulia, buon anno di nuovo Grazie, anche a te e a tutti Per tutti i nuovi telespettatori, raccomandoci un attimino come nasce la vostra associazione un po' di storia e poi questa bellissima edizione La nostra associazione è nata nel 2022 in memoria di mio fratello Mario Bertolini che aveva fatto il presidente per 30 anni del vecchio comitato con la riforma del terzo settore logicamente abbiamo dovuto associarci e fare un'associazione per gestire questa sagra Uno dei punti fondamentali del nostro statuto è il risistemare la chiedetta di Sant'Antonio che è 13 anni che è chiusa e noi questa sagra la facciamo per questo Ti vedo un po' inemozionata ed è giusto così però adesso pensiamo a divertirci raccomandoci questi due weekend come si svolgeranno Allora questa è la prima giornata è la prima giornata domani sera ci sarà la seconda e domenica mezzogiorno e anche cena il menù è il menù classico quello che facciamo da 30 anni a questa parte la griglia a parte la griglia insomma anche il minestrone i fasi con la poichetta i fasi con la farina tutte cose che si mangiava in una volta giornata particolare il giorno di Sant'Antonio il giorno di Sant'Antonio ci sarà il disastro perché l'anno scorso ci si è aspettata una marea di gente e vi aspettiamo insomma se volete venire anche voi per noi è il giorno clou guarda a proposito noi intanto ti ringraziamo un po' dell'invito che ci hai dato anche quest'anno grazie hai due secondi di base di telecamera per invitare tutti i telespettori a venire qui a visitare questo bellissimo paese e a venire qui a Sagra a digustare gli altri piatti che Tato staff volete fare grazie vi aspettiamo tutti è un'associazione che comprende grandi e piccini proprio stasera abbiamo avuto 8 nuovi ingressi 8 ragazzi giovani nuovi abbiamo circa 100 volontari per cui è una cosa grande e vi aspettiamo tutti quanti e sappiamo che anche la Proloco ci mette del suo per darvi una mano certamente noi lavoriamo in collaborazione con la Proloco tantissimi adetti alla Proloco tantissimi volontari della Proloco fanno parte anche del nostro anche perché sappiamo che i volontari sono sempre meno ci si divide tra le varie situazioni Giulia di nuovo grazie di nuovo veramente di cuore grazie per quello che fate per il territorio noi vi aspettiamo qui a Miane per la Sagra di Sant'Antonio del Romo Man Giulia e tutto il suo staff vi aspettano per farli degustare tutti gli ottimi piatti che il pocanti vi ha elencato grazie, vi aspettiamo grazie a tutti